Si definiscono i concetti. Le idee prendono furbe. I limiti vengono superati e la storia viene scritta. L'acciaio è forgiato. L'evoluzione è concretizzata. La tecnologia definisce gli standard. Finalmente arriva qualcosa di assolutamente innovativo. Vinci è un fucile rivoluzionario, caratterizzato da un equilibrio e una tecnologia che non ha uguali nel panorama delle armi semiautomatiche. Un fucile geniale per la sua semplicità ed efficienza, che abbina tre rivoluzionarie tecnologie. Comfort Tech Plus Vinci Inertia System e Free Floating Barrel Un fucile che mira l'equilibrio come punto di arrivo. Vinci è il primo e unico semiautomatico in cui l'operazione di montaggio e smontaggio è facile e veloce, senza l'utilizzo di alcun attrezzo. Costituito da tre componenti principali Il modulo carcassa con il sistema inerziale interamente contenuto nel fodero Il modulo canna E il modulo calcio Vinci, grazie a una struttura rivoluzionaria, è facile da assemblare ovunque, anche sul terreno di caccia. Eccisione Vinci è il primo e unico fucile semiautomatico, dotato di canna libera senza temoni di bloccaggio, in grado di fornire prestazioni balistiche senza eguali. Basato sullo stesso principio presente nelle carabine Bolt Action ad alte prestazioni, Vinci presenta canna e fodero in un unico blocco, che opera in linea con il nuovo sistema inerziale. L'innovativo sistema inerziale in linea, non necessita di alcuna regolazione, ed è compatibile con tutte le cartucce commerciali, tradizionali e manuale. La canna è un elemento unico con il fodero, l'intero ciclo dell'otturatore avviene in asse, per un equilibrato bilanciamento delle forze e il minimo rilevamento al lato dello sparo. Vinci offre una precisione balistica mai vista finora. Vinci vanta la nuova tecnologia Comfort Tech Plus, evoluzione del famoso Comfort Tech, già universalmente riconosciuto come il sistema più efficiente di Full Comfort. Il rinculo, le vibrazioni, l'impennamento dell'arma sono ridotti al minimo, grazie all'azione integrata dei componenti del sistema. Ampiamente collaudato in laboratorio, sul campo di tiro e sul terreno di caccia, il nuovo sistema Comfort Tech Plus riduce la sensazione di rinculo senza aggiungere peso all'arma. Oltre che per la tecnologia d'avanguardia, Vinci si distingue anche per l'estetica innovativa, grazie al suo straordinario design e alla moderna gamma di colori. Vinci è disponibile nella classica finitura sintetica nera. Due apprezzati camouflage, Advantage Max 4, RealTree APG e l'esclusiva linea Benelli Select Colors. Tre tonalità ispirate ai colori naturali degli ambienti di caccia. Amazonia Green Sequoia Brown e Desert View La distintiva valigetta per il trasporto permette di custodire con facilità e stile il vostro Vinci, accogliendo perfettamente i tre moduli per garantire un trasporto agevole e sicuro dell'arma ovunque. Per maggiori informazioni sul nuovo Vinci Benelli, chiamate oggi stesso il vostro rivenditore di fiducia. Per maggiori informazioni sul nuovo Vinci Benelli, chiamate oggi il vostro rivenditore di fiducia. Per maggiori informazioni sul nuovo Vinci Benelli, chiamate oggi il vostro rivenditore di fiducia. L'evoluzione è concretizzata.